Un cortiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con l'A1 dove per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Vibio per la variante di Valico e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 in direzione Livorno per traffico intenso ci sono rallentamenti tra il Vibio per l'A15 e Via Reggio. Sulla A11 a causa di un guasso all'impianto l'area di servizio di Migliorino Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. I traghetti a causa delle condizioni meteo potrebbero esserci ritardi e cancellazioni nei collegamenti per le isole. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie. Grazie.